Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Sulla base delle prime informazioni diramate a mezzo stampa, a bordo del mezzo c'erano una ventina di bambini e ci sarebbero dei feriti. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37 e, sin da quando l'allarme è stato diramato, sul posto sono giunte diverse squadre e gli elicotteri dei Vigili del Fuoco che, come sempre, in questi casi rappresentano dei veri e propri angeli in divisa. I soccorritori hanno liberato dalla lamiere del mezzo tutti coloro che erano a bordo, conducente compreso, evitando che la situazione potesse prendere una piega ben peggiore. Sul posto, oltre ai sanitari e ai Vigili del Fuoco, sono stati inviati anche due elicotteri dei pompieri e l'elisocorso. Il mezzo coinvolto è stato precisato da ATI. È un bus della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona. Tra i piccoli scolari che viaggiavano nello scuolabus, alcuni di loro avrebbero riportato contusioni. L'autista era rimasto incastrato ma, grazie al grandioso lavoro dei soccorritori, è stato estratto dal mezzo.